La trasformazione per me è la forza, di vedere una situazione e poter trasformarla, di lasciare la vita trasformarci, questa è una cosa molto importante. Quando diciamo sempre non cambia alla gente come se fosse un complimento, questo non è un bel complimento, infatti il cambio in continuazione, la trasformazione cosciente e anche incosciente, che ti rende più forte, più resistente alla vita anche.